Comentiamo subito il dato sportivo, a caldo questo sorteggio? Sembra un sorteggio buono, conosco solo il Murcia dell'amico Uamma, sono comunque tre nazionali spagnoli, credo che quella sia la squadra da battere nel girone, le altre due sono due novità, ma io penso che sono loro che devono aver paura del Catania e non di loro. Anche perché avete allestito una squadra importante quest'anno e quindi forse sono gli altri che devono aver paura di voi? Infatti io credo che la nostra squadra quest'anno possa veramente ambire a grandi traguardi, si sta allenando bene, è un gruppo forte, con giocatori di esperienza e giovani valorosi. Chi dovete tenere d'occhio? Il Crystal sicuramente, la campionessa uscente, il Braga, la stessa Lokomotiv, anche la Sam comunque si è apprezzata bene, Milano, le squadre italiane sono derby, speriamo di evitarli. Il gruppo sta crescendo? Il gruppo è fantastico, stanno lavorando molto bene, praticamente sono bravi, sono pronti, sono preparati, col prof sta facendo una ottima preparazione, credo che già dalla Coppa Italia cominceremo a vedere buoni risultati.